Nel match valido per la settima giornata del campionato di Serie D Girona F, il Montegiorgio spugna il comunale battendo il Nereto 2-0. Succede tutto nella seconda frazione, con le reti di Spagna e Omiccioli per il successo della squadra di Mengo. Seconda vittoria consecutiva per il Montegiorgio, mentre il Nereto resta a quota 2 punti. Con il montaggio di Emiliano Gigliotti andiamo a vedere gli elezzi della partita. Buon avvio del Montegiorgio, che al terzo si fa vedere con una punizione di Rucci, dal vertice sinistro dell'area, che viene respinta da Dillio. Match molto tattico e con tante interruzioni, sin dalle prime battute, con le due squadre che lottano nella zona nevralgica del campo. Al 22esimo la scuola di Mengo torna a farsi vedere sul calcio piazzato, ma il mancino di Omiccioli viene allontanato dall'estremo difensore di casa. Il Nereto non sta a guardare e al 27esimo va vicino al vantaggio, con un grandesso da fuori di Ristovski che viene respinto in tuffo da Gagliardi. Prima frazione di gioco si chiude senza reti e con poche emozioni. Ad inizio ripresa, Bitetto manda in campo Nardini e Gaia, al posto di De Falco e Faie, mentre Mengo risponde mandando in campo Donzelli per Pepae, per Rigen e Montanaro. Match che si mantiene sempre molto tattico e spigoloso, anche nel secondo tempo. Al 62esimo ci prova il Nereto, con un'iniziativa personale di Ciganda, ma il suo destro si perde al lato. Passano 120 secondi ed il Montegiorgio va da un passo dal vantaggio. Tiro cross insidioso di Rucci, che viene respinto da Gagliardi. Sul pallone arriva Spagna, che a portavuota spara clamorosamente sul palo. Al 71esimo altre ascianze per gli ospiti, con il mancino di Perpepai, che viene respinto in maniera provvidenziale da Ferrini. Sono solo le prove generali del vantaggio, che arriva 60 secondi più tardi, con Spagna, che sugli sviluppi di un corner, in sacca di testa battendo Diglio, 0-1. Bitetto manda in campo Pedalini e Offidani per Ristovski e Cuchi. Al minuto 84, vibranti proteste da parte del Nereto, per il dubbio intervento di Gagliardi su Cipriani, ma il direttore di gara lascia proseguire. Nel finale, Nereto sbilanciato, è raddoppio da parte del Montegiorgio, con uno splendido mancino a giro di Omiccioli, che si insacca sotto l'incrocio. 0-2 e fischio finale. Seconda vittoria consecutiva per il Montegiorgio, che si allontana dalle zone basse della classifica, mentre il Nereto resta a quota due punti in classifica. Dobbiamo ripartire, dobbiamo ripartire perché non è ancora finita. Certo che è bruttissimo, perché sono sconfitte queste, come anche le altre, che possono lasciare il segno, ma fino ad un certo punto, perché per esperienza si va avanti e si deve cercare comunque di recuperare. Abbiamo la capacità e cercheremo in tutte le maniere di poterlo fare. Sì, diciamo che avevamo impostato la partita in questo modo, mister Mengo in questa settimana, più che il risultato, ha portato il focus su quello che era l'aspetto agonistico di concentrazione, rischiando meno possibile perché la situazione della classifica non era delle più rose. Quindi abbiamo fatto legna, abbiamo messo carattere e determinazione ed è venuto il risultato, come spesso capita magari in queste partite dove si gioca duello su duello, ne abbiamo vinti diversi, specie il secondo tempo e l'inizio della partita l'abbiamo portata dalla nostra parte.